Buongiorno Presidente dei Patre, oggi è 10 aprile 2010, abbiamo l'incontro di calcio il Real Notaresco Paterno, mancano 360 minuti alla fine del campionato, come la prevede questa partita? Ma è una partita, io penso che è una bella gara perché è un avversario giovane, attrezzato e ponderà a fare un finale, darà freddo la torcia da parecchie a squadra. Si sente vincente per questa sfida? Ma no, il vergetto del campo dirà tra 90 minuti chi vingerà questa partita, noi siamo Ereni perché ormai ha un passo dalla salvapevezza. Benissimo, diciamo che mancano 360 minuti, quindi lei ha già progetti per il futuro, per la sua squadra? Io già sto lavorando, rinforzare questa società perché andare avanti il calcio da solo non è più il caso, andare avanti perché sono qua 4 anni che faccio sforzi tutti i giorni e cominciare a diventare un po' più pesante la situazione. Si parla dell'ingresso anche del tuo amico Ercole Di Nicola come direttore sportivo? Ercole ormai sta a parcoscenici più importanti. Vabbè, però una mano te la può dare? Una mano, però Ercole ormai punta in C, lui queste categorie non le fa fatte e non le farà mai. Va bene, Presidente la ringraziamo e la salutiamo da un'autoressa nel cuore e buona partita. Grazie, buongiorno.